Buonasera a tutti! Applauso! Questa sera ci esibiremo in una cosa nuova, scommetto non l'avete mai vista. Questa sera ci esibiremo in una cosa nuova, scommetto non l'avete mai vista. Questa sera ci esibiremo in una cosa nuova, scommetto non l'avete mai vista. Iniziamo? Iniziamo! Cos'è? L'ottante! Che ne hai la fa? Che ne hai la fa? Provo! Provo! Gatti che strumenti! Noi! Giuseppe, che ne hai la fa? Vai! Asamata sti! Ricci, vieni! Provo! Musica mai! 를го terra viare! Ho! Chi pegue? Non! Chi pegue Iranian. Cos'è? Che è l'ша. È.. la! SiH Smells bravo, bravo Adjus bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, 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 bravo, bravo bravo, 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 bravo con la mano sul cuore, mi piacere mi si no lo faccio Grazie! Grazie! Grazie!